Ciao ragazzi, buon pomeriggio, cappetti isterici, mi piace, è caldissimo e poi ho amassato il geppetto, mi vicino, non so che cosa sta facendo, è di pomeriggio quando c'è caldo, sentire questo caos irritante, comunque è arrivata la box di luce fantastiche, la abbiamo insieme, tutta dorata, bellissimo, molto molto bello questo contrasto del nero con l'oro, vedete come è tutta bella rifinita, questa è la brochure che vedremo insieme, questa è la rivista Elle, totalmente in inglese, da portare al mare sicuramente, e questo è come si presenta la box, ora apriamo e sa che sia i prodottini, ah che meraviglia, allora un doposole della filorga, è un gel calmante, tra l'altro potenziatore di abbronzatura, vediamo un attimo, si è un gel, ha una triplice funzione di rinfrescare, di calmare e di appacificare, cioè fa anche denitiva, arricchita con argan, olio di albicocca, di avogado e di mandorle più acido ialuronico, quindi questo sono molto contenta, poi, ah questa tra l'altro è una marca che ho già testato l'anno scorso, la La Onself, è un olio idratante da dare al mattino, include anche qui olio di argano, olio di oliva, siunco e anche olio di liquizia, dovrebbe essere questo, è una buona marca, insomma non è tanto piccolino come campioncino, poi l'olio rende molto, sono 5 ml di prodotto, però di questa stessa marca avevo provato uno scrub, sempre con i profumi che piacciono a me la spa e mi era piaciuta da morire, poi vediamo cosa c'è, questa, scusate, questa è da usare come detergente, un nettoyant pur le visage, da usare al mattino, con stimolatore di antiossidanti, elimina l'eccesso di sebo, il residuo di macchiaggio, quindi anche da sera, la salette, la salserine, non lo so che la mia cugina è nì, per me, la crasse, je ne sais pas, qu'è che c'è, la crasse, je ne sais pas, va bene, dice di inumidire il viso e massaggiare delicatamente, una piccola quantità di questa mousse su tutte le zone del viso, eliminare avec, 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 una linguette d'us, tipo, un panno di mussola e rimuovere il tutto, SWR, con chi ne parlavamo? Ah, con lo stile di coquette, che dicevo è una marca che si trova solitamente in farmacia, in parafarmacia, ultimamente ho trovato anche da Amariano e questa è un gel moussant, è un gel etullante, rifiante, creata dai laboratori francesi di Paris e è una crema pulente che elimina l'impurità e gli eccessi di sebo, da provare, insomma, sapendo che costa un botto questa marca, perché no? Poi, benissimo, questa confezione di shampoo Kerastase è un bagno chromatic per capelli colorati o mesciati, direi che è l'ideale per me, quindi sono 80 ml di prodotto, ha uno shampoo multiprotettore per i capelli colorati o mesciati e reflection, probabilmente donerà questi riflessi cromati, contiene vitamina E e filtri UV e difende il capello dalle aggressioni degli antiossidanti, a questo infusione di olio di lino che è conosciuto e specifico per la protezione del capello, soprattutto quando è colorato. Ultimo prodotto che sinceramente non so che cosa sia, ha un illuminante di questa marca che non conosco, l'intro dice che non è un look da dea senza un bellissimo illuminante, quindi, this is amazing, è di questa, bellissimo, sono piena di illuminanti, io praticamente non lo apro, perché avendo comprato quello di Becca, però proviamo, dai, intanto, è un po' antipatica l'apertura così, eh, questa sicuramente farà una brutta fine, però questa è la consistenza, io vorrei dire che a me sembra che non scriva tanto, è scrivente su quel pastrello e poi quando lo vado a distribuire, insomma, neanche tanto, eh? zero, no, un po' sì, vabbè, l'unica cosa, non conosco questa marca, sicuramente non è agevole, eh, il tech, quindi abbiamo detto che è una box totalmente dedicata alla dea che è in noi, e una preparazione all'estate che parte non solo dalla pelle, dal corpo, dalla pelle del viso, dalla pelle del corpo, ma anche dai, ai capelli per poter risplendere magnificamente, eh, in questa estate, eh, golden, un mese della dea, una dea d'oro, ragazzi, c'è un caldo, con i miei capelli beach waves, io vi saluto, vi bacio, e alla prossima box.